ciao a tutti sono alessio 19 870 altro gameplay di assassin creed 3 via allora ho completato la missione della parte precedente poi ho comprato un nuovo vestito di connor eccolo qua tipo quello da assassino eccolo qua aspetta permetto di qua ecco tipo quello che aveva ezio in assassin creed brotherhood eccolo qua bianco e rosso poi la nuova l'ho preso ecco qua l'ascia ma non l'ho comprata l'ho presa da l'ho presa da contro un soldato ecco a posto della spada poi adesso devo fare la missione la qui c'è achille eccolo interagisci e via vabbè abbiamo pa cosa ha bisogno a è fatto johnson è morto no si è ritirato dopo la perdita del tempo solo per cambiare il suo piano è ovvio avresti dovuto uccidere Non serviva Perché? Solo il tempo Ci dirà se arriva giù Sei mesi dopo Radona Gheton Radona Gheton Perché sei qui? È successo qualcosa? William Johnson è tornato con l'intera somma per comprare la terra Parlando ora con gli anziani Gli ho implorati di opporsi ma devo anche otterrare quello che vuole Per Non interviene Ma come è possibile? Su te distrugga I templari non sono mai accorto di risorse Avresti dovuto darmi ascolto Per Ti prego Devi fermare Ma certo Sai dove si incontra? Boh Ecco devo andare ancora a quel punto esclamativo Qua ho detto prima il suo micro è vero Eh Allora Un punto esclamativo laggiù Dove cazzo è? Frontiera E devo andare raggiù Eh non è lontano Allora di qua Allora di qua Ecco lo sapevo Andare là sopra Niente Ho già capito come devo fare Aspetta Aspetta Allora Viaggi rapidi Ok Andiamo di qua Frontiera Sì Ecco qua Si è messo il cappuccio di nuovo Ecco Ok Adesso dove Devo andare Qua non è lontano Perfetto Un cervo Un cervo Ha colpito Le spalle Ok Vabbè Il suo amico E' il suo amico E' quello là Vediamo cosa dice Sequenza 6 Negoziati Negoziati ostili Via L'amico Un cervo E' il suo amico 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 Ecco la lingua Pari Raggiungi il luogo L'incontro In cima alla roccia Devo farmi il giro Devo farmi il giro di qua, cazzo Eh Cazzo Ah, cazzo Non è di là E non si può, ma che cazzo Non si muove Cazzo Mi sono incastrato No Mi sono incastrato Ottimo controllo Ma cazzo, mi sono incastrato Cazzo, mi muovo e non si... Eh, che cazzo Eh, è di là Ah, è andato di qua Oh, è andato di qua C'è andato di qua C'è andato di qua Oh, cazzo Oh, cazzo Cazzo vuoi Ah, è andato fuori Ah, è andato di qua Sti stronzi Oh, eliminati Perfetto E dite ciao, arrivederci Ecco, bari Sì Sì Guarda di qua Attenzione Un'altra estrosi Oh In qua, stronzo Do Do E di ciò, arrivederci Boom E recuperiamo Uh Il moschetto Sì Sì Come di qua Cazzo vuoi Do E dite ciò, arrivederci Boom Sacra te E di ciò, arrivederci Non siamo Eh E di ciò, arrivederci Eh Cazzo Boom E di ciò, arrivederci Abbiamo tutti Le spedizioni Che la tua gente Ci manda con Boom 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 E di ciò, arrivederci Chi che parla così Oh Oh Uh Uh No Cazzo I rinforzi Sono arrivati Uh Una lepre Eh Ecco, sono arrivato Perfetto Pace, pace Pace, pace Uh Non vi ho sempre difeso finora Non ho sempre cercato di proteggervi da tutto Eh Se tu vuoi proteggerci Dacci le armi, ucili e cavalli per poterci difendere da soli La guerra non è la risposta Eh Noi ricordiamo Stanwix Sappiamo che avete spostato i confini Anche ora i tuoi uomini scavano la terra senza riguardo per chi la popola Usi parole spadenti Ma farse Non siamo qui per negoziare Eh E per vendere Siamo qui per dirvi che dovete andarvene Eh E va bene Mi offro un ramo d'olivo E voi lo gettate a terra Eh E stronzo Forse con voi servono le armi Oh oh Ci stai minacciando Eh Sì Bastardo Assassina Johnson Ah ecco Cos'è? Un tesoro Porca miseria Mi hai dubitato? Che cazzo l'ho fatto? L'ho sparato Tanto abbiamo sto tesoro Aperto Perfetto Oh sì Ciao Arrivederci In poco tempo L'ho fatto fuori Colpito Oh no Cosa hai fatto? Hai messo fine ai vostri piani Volevate avere queste terre per i Templari Eh Già Per potervi proteggere Pensi che il buon re Giorgio non dorma la notte sperando che nessuno maltratti i suoi sudditi indiani? O che la gente in città importi qualcosa di loro? Certo I coloni sono felici di commerciare Se hanno bisogno di cibo e alloggio Un risorso in più per le loro truppe Ma quando le città gli staranno strette? Quando vorranno nuove piantagioni? Quando Non avranno più nemici? Vedrai come li tratteranno allora I coloni non hanno problemi con i milionesi? Non ancora Eh Ma accadrà Così va il mondo Col tempo Ma inverno Io Potevo firmarli Potevo salvarli tutti Tu parla di salvezza Ma li stai uccidendo? Eh Già Perché non mi ascoltavano E tu Credo Farai lo stesso Eh E muore Non si capisce niente con quella lingua Ecco fatto Che succede? Ho fatto fuori Oh cazzo Fuggirà la zona Rendite a noi Oh cazzo Ma Prendete questo E dici Ciao agli vederci Oh cazzo Potete prendere E dite ciao agli vederci Boom Cazzo Anche quelli Oh Che bene Dite ciao agli vederci Boom Cazzo Due in un colpo Due saltando Non uno Dai vede qua Dici Ciao agli vederci Boom No due Peccato di questo Dite ciao agli vederci Boom L'ultimo col moschetto Oh Oh Moschetto Eccolo Come vuole prendi Ho il mio moschetto To Cosa? Anche tu sei forte Ah si Ecco si Ah Stronzo Ah c'ha l'arma come ce l'ho io Lì Lascia Eh bastardo Boom Sacate E che figlio di Puttana Oh Ok Oh Figlio di puttana Per forza da l'alto Una lepre No Oh Ora prendi E dici Ciao agli vederci Oh Prendo il moschetto Aspetta Aspetta C'è un cazzo Prendo il moschetto E me ne vado Oh cazzo Cazzo Oh E dici Ciao Arrivederci Uh Due di un colpo E dici Ciao Arrivederci Ah ah Devo fuggire da là Da là Da là Accidenti Devo andare a sopra No Ha togliato il moschetto No No Ma che ce l'ho fatta Allora Ce l'ho fatta Come dato la sequenza 6 Negoziato stili No Tutte sbagliate No Perché Ricordo sincronizzato Sequenza 6 terminata Perfetto Ci sarà la 7 Eccolo qua William Johnson è morto Sì E con lui Il complotto templare Per rubare la terra Ad un bollo Alla fine di questa minaccia Mi ha svelata un'altra Addosso Aveva una lettera Indirizzata A John Pickham Contenente ordini Per annientare Distruggere armi E risorse di Eh Se dovessero avere successo I coloni Non potrebbero resistere I templari Avrebbero la meglio Eh Finché Fidkern è vivo Siamo in pericolo Devo trovarlo E devo ucciderlo Sì Ecco Achille Pensavo di sentirmi meglio Di provare una qualche soddisfazione Ma provo solo Rimpianto Eh Non vacillare Sacrifici simili Sono duri Da compiere Dovevo farlo Non solo Dalla mia gente Ma per tutti quelli Che John Sono minacciati Eh Eh Non inizio Ma per annientare L'influenza templare Dovrai ucciderli Tutti quanti Sì Anche tuo partner Anche lui Un conto è dirlo Ma ne sei convinto Eh Abbiamo visite E chi è E chi è E chi è un monaco Che cos'è Eh Una richiesta di aiuto Di Paul Revere Pare che Gli inglesi Stiano combinando Qualcosa a Boston Eh Suppongo Tu sia piaciuto Ai figli Della libertà Mi hanno scambiato Per uno di loro Vi prego Dite al signor Revere Che gli sono amico Ma che non posso aiutarlo Ora Eh Non credo Che ti convenga Parla anche Di John Picker Eh Dove devo andare Il signor Revere Vive a Boston Se volete Posso Eh E se va così Che Stupido Prima c'era scritto Sequenza 7 Che è un'altra Di Dan Dan Port Quindi sono La sequenza 7 Uh Devo andare a Boston Non so cercare Quel Quella Lì Frontiera Aspetta Se vado Se vado Da in fondo So già Che succede Devo fare Quella scalinata Da sopra Facciamo I viaggi Rapid Va Ok Mo di qua Frontiera Sì Ok Adesso Vediamo Un po Qua Boston E' un po Sì Andiamo un po Così Come Devo farmi la Tutto qua No si ricarica L'energia Eh no Tutto di qua La velocità Ecco 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 Cazzo Cazzo Un urso Un urso Iqua Faccio Fuori Pezzo Di merda Eh Un sacchiotto No E E Diccio Arrivederci Bravo Ecco La schifezza Un altro Un altro Osso Iqua Iqua E ti faccio Fuori E uno E due E tre E ti Ciao Di Vederci Bravo Ok Ecco Solite cose Sai quante Momente Mi Accumulo Cos'è Oh Un altro No Cazzo Ti ho Beccato Dove vai Dove cazzo No No C'è Proprio Lì Dove sei Dove sei Eccolo Dove vai Dove vai Sono qua Io Oh E Diccio Arrivederci In un colpo Solo Stiamo Senza Niente Combattere Ehm Cos'è 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 Eh no Ma Che cazzo Oh Colpito Cos'è Un cervo Vediamo No Un alce Cazzo No Cazzo Lepre No Ok Che è sto Fischio Che diavolo Cazzo Che cazzo Era Boh Che diavolo Oh Da giù Ancora Una lepre Dove vai Ah Preso Ok Un'altra No 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 no, non c'è qui niente la stavo colpendo non mi dire che non è qua sopra lo sapevo ecco ok da ah di qua, ottimo Boston, perfetto boh, eccomi qua oh i barili i barili grandissimi, i barili anche là allora, dov'è? il punto lì dov'è? dov'è? eccolo, davvero ma quant'è? distante aspetta è la miseria è parecchio distante che cazzo cos'è? un pollo un pollo dove vai? dove vai? ma che gli hai preso? ma che gli hai preso? un pollo aspetta è agitato cos'è? oh uno spaventapasseri un altro no una mucca una mucca oh qua no qua no barili sì che qua uh che barili giganteschi c'è enormi mazzo ma che è un cagnolino eh dov'è? l'altro oh queste pecore bellissimo barili sì non c'è non c'è dove? ecco il gattino ancora 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 oh pietra lì che cazzo vuoi boh andiamo avanti va qua qua vai qui distante barili sì ma anche qua i barili sì 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 so right ci sono no oh 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 no 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 wow oh ah 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 aspetta oh oh ancora chi è? che cazzo è? accidenti inseguci delinquente devo inseguirlo bastardi i vanili grandissimi i vanili dove cazzo vai tu? dove cazzo? attenzione non mi scappi non mi scappi eccati questo dove cazzo vai? pezzo di merda non mi scappi non mi scappi non mi scappi ma non mi scappi dove cazzo credi andate? stronzo togli ciò vedersi so come questi stronzi dobbiamo venire a rompermi i coglioni un altro delinquente oh che cazzo è? eccolo che cazzo va? oh oh eccati questo oh e che cazzo a cazzo oh e di ciò li aderci un altro delinquente che cazzo è? che palle eccolo no crepa coglione oh che cazzo dov'è? eccolo dove cazzo vai? crepa no no e di ciò li aderci no bastardo oh e di ciò li aderci adesso cazzo ma proprio questi stronzi mi viene a rompermi i coglioni cazzo dai 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 c'è quel punto esclamativo laggiù diavolo ma dov'è riparo? eccolo il pozzo il pozzo no fanculo non potete prenderle eh bastardi toh e dite ciò li aderci oh oh e si di merda oh e vaffanculo e si di merda e dite ciò li aderci oh oh e t'affanculo uno oh oh figlio di puttana oh e t'affanculo perfetto anche tu toh e dite ciò li aderci oh e che cazzo oh il moschetto la lasciamola fare un po' rompere questi qua perché sennò oh 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 chi c'è qua meo ancora meo ancora meo mi ha fatto fuori quei delinquenti la ancora se vuoi prenderle fatti avanti non lo prenderai lascialo stare ma dai non è possibile io devo dare un punto di scavattia a questo qua ma dai devo inseguirlo vieni qua vieni qua pezzo di ma che cazzo ma le prendi ma le prendi oh si è caduto ora le prendi le prendi le prendi oh e di ciò arrivederci che cazzo oh e che cazzo era ora oh seminati perfetto oh cazzo no 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 oh perfetto adesso posso andare là che punto escamativo che ce l'ha uff non è veramente quindi la prossima prossima missione la la devo fare però 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 i barili grandissimi i barili anche qua mi metto qua, ci sono i barili aspetta, aspetta, aspetta poi fermo qui, ci sono i barili la prossima parte farò quel punto esclamativo dai, mi fermo qui ecco, sequenza 7 Conno ha assassinato William Johnson per i barili di acquistare la terra del suo popolo ma un nuovo pericolo è apparsa all'arrizzondo John Pitca, esordati inglesi del suo comando sono la sequenza 7, incredibile la prossima parte farò quel punto esclamativo quindi prossima missione la parte dopo mi fermo qui poi mettete mi piace se volete commentare, commentate se volete mettere preferiti, mettete i preferiti iscrivetevi al mio canale e quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Assassin's Creed 3 quindi un ciao da Alessio19 870 al prossimo gameplay ok ok Grazie a tutti.